Iscrivetevi, iscrivetevi e iscrivetevi Mi sono iscritta e te lo sciatoglio un bel legno Eh grazie, sei mia moglie Un saluto a tutti qui di Ago Pippo e welcome in the prank time Oggi vedrete uno scherzetto fatto al Johnny Rocks Di cui lascerò il suo link in descrizione e mi raccomando iscrivetevi anche al suo canale Buona visione Guarda che ovviamente i blocchi si apriranno Ma è solo per essere Per il video Vai a fare un saluto Aspetta, aspetta, poi ti ho fatto bene Aspetta, aspetta, poi ti ho fatto bene Ma io trovo, perché se non sulle scale No, fa un po' carino Una patina Mi sta perseguitando Cos'hai nella spalla? No, quella spalla, l'altra Altra spalla, cos'hai? Ciao, ma lì Cos'hai nella spalla? Niente Guarda la spalla Lascia Oh mio Dio è un po' tia adesso dimmi cerci il youtube adesso dimmi cerci il youtube Non dico il coso Pazza maniaca Che bello Martino c'è Grazie a tutti